Buongiorno a tutti i ginnasti, vi hanno rappresentato l'Artistico 4.1, ginnastica romana, Brixia, La Rosa, Indictus Gym, Estato 83, Olos Gym 2000, Firenze, Ginnastica Heaven, Montesport, Iubectus Novo Mezzo, Sportis, Inside World, Letters Gym, Polisportino Celle, Ginnastica Catturale d'Oro, Centro Vecchia, Pro Novara, Ausilio, Polisportino Cazanina, Ginnastica Salonese, Rivoltà, Antigolino Sporto San Giorgio, Galissone, Palagin, San Pietro Nasseglie, Olimpia, Osta, Ares, Corvo Libro, Ginnastica Team Padova. Un bel applauso, signori e signori, a tutti i ginnasti che si schierano di fronte a voi. Ringraziamo Walter Pieroni, vicepresidente Vicarri, rappresentanza del presidente Gerardo Tecchi della PGI, Gioconda Raguso, referente delle giornate nazionali di ginnastica artistica femminile, Vittorio Massucchi, presidente della Costanza, Andrea Massucchi, che ci aiutano nella cerimonia di previazione. Terza posizione, punti, settanta e ottocento, dalla inside WLS Gym Chiara Vincenzi. Seconda posizione, punti, settantatré e cento, dalla WLS Gym 2000 India Bandiera. Signore e signori, campionessa, nazionale, Gold, a nieve, in quattro livello con punti settantatré e ottocento. dalla Prezzi e Prezzi Signore e Signori, Chiara Vincenzi, Imbia Bandiera, la nuova campionessa nazionale, Veronica Mandriota Brava, vero! Le regole classifiche, salutate dal posto gimnastere, quarta protezione, 70-150, Sara Malatesti Quinta, 69-700, Greta Lovini Sesta, 69-600, Marco Calamorabito Settima, 69-250, Anna Danieli Ottava, 69-200, Sonia Paglisano Eccolo con lei, Carolina Quintavalle Decima posizione, 69-050, Chiara Nicoli Undicesima, Laura Ricci, dodicesima, Benedetta Rosola Tredicesima, Valentina Pernice Quattordicesima, Rianna Aramassio Goppio Quindicesima, Alessia Giglio Sedicesima, Galdubis Paranesi Dicessettesima, Emma Ferrani Dicettesima, Giovanna Novel Diciannivesima, Vestrici Volpato Ventesima, Sofia Pulizzi Ventunesima, Gaia Puglioni Ventiduesima, Camilla di Bartolomei Ventidresima, Sombia Uggioni Ventidresima, Nicolo Cavalla Ventidicesima, Giulia Piccinini Ventisesima, Ado Amunta Dallalucca Ventisettesima, Sede